sai ora vediamo la settima dove la settima la settima l'ho vista già qua sopra paura del buio non mi piace il titolo se dobbiamo fare una cosa un sacco di informazioni qua che cazzo dobbiamo fare il nostro amichetto dove andare dove dobbiamo andare non vedo il nostro amichetto sicuramente qua sopra minchia arriva fino a lì anche questo sarà un dito a volte carta vetrata rifiutato al su nel culo io mi seguo comunque questa cioè questa è tutta velocità e oppure non ce la fare e facciamoci ammazzare sul punto tutta velocità tutta velocità via no 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 presumo che questa sia più difficile ancora devo capire devo capire allora lì sopra c'è un masso che posso spostare giù per spostare il tronco senza che il blu rimanga lassù sì sì seguimi 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 no cioè non seguirmi così però qua 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 non rosso non rosso ma stiamo scherzando stiamo scherzando seguri seguri a me seguri a me il filo non basta il filo non basta e allora che devo fare uscire fuori di testa dove uscire fuori di testa tu stai qua insegui il coso blu dobbiamo fare il seguito il coso blu qua 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 arriva quella cosa lì ma che è successo devo stare attenta 1 2 1 2 1 2 1 2 1 e 2 e 1 e 2 questo se si fa in due giocatori è facilissimo ma coordinare una persona solo in due mannaggia visto non fa il giro qua 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 sono tost e sono tost e si vede che una roba pensata per il post game però questa mi sta particolarmente mettendo in difficoltà mi sta mettendo in difficoltà mi sta mettendo in difficoltà però ho pensato una cosa ho pensato una cosa ho pensato una cosa ho pensato una cosa qua io 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, se ce la facciamo. Calma. Sangue freddo. Concentrazione. Nessuna fretta, nessuna attenzione. Oh, vaffanculo. Qua. Ok. No, no. Non mi fa lo scherzetto. Esatto qua. No. Ci devo spostare per forza quella roba. Ci devo spostare per forza quel mazzo lì. Fanno cadere però. Con sto coso che ti esce subito. Guarda, manco il tempo. Manco il tempo. Fanculo, fanculo. Questo cazzo di gioco e questa cazzo di sfida. Incredibile. Ci sarà qualcosa che mi sfugge? No, è istantaneo. È istantaneo. È istantaneo. È istantaneo. non so come fa so come farlo so come farlo un passo in avanti un passo in avanti quasi ci basta ci dovrebbe bastare dai che ci basta dai che ci basta dai che ci basta oddio no non mi direi che non ci basta per favore non ci basta oh non vedi sta minchia mamma mia grazie